Salve a tutti e benvenuti qui sui Level Step, eccoci qua con il quinto episodio sul messaggio e mastering. Oggi andiamo a vedere come gestire l'ambiente, quindi i riverberi, i delay e tutto quello che appunto crea un ambiente. Ho preso un progetto a cui sto lavorando, quindi non fateci caso più che altro a quello che sentite, perché ancora è una cosa che devo sistemare, però mi serve per farvi vedere come gestisco io l'ambiente dei singoli suoni. Allora, sempre mi sposto qui sotto, questa è la mia melodia che devo sistemare, è una cosa molto orrenda. Fa come tende schifo, vabbè, poi c'è il drop. E così via, poi si ripete. Allora, qui possiamo vedere che in questo singolo suono, dov'è? Il top lead, vado a mettere più che altro, appunto, vado a fare dei layering. Quindi è molto importante andare a gestire tutto questo riverbero che andiamo a mettere, quindi tutto l'ambiente, deve essere dosato bene su tutti i suoni che andiamo a utilizzare. Quindi non focalizziamoci soltanto su un suono, quindi mettere il riverbero a 2000 e poi magari sull'altro suono farà la stessa cosa. Quindi non esagerare se già c'è troppo confusione. Quindi mettiamo caso che già c'è un suono con un riverbero molto alto, poi ne vai a mettere un altro, poi ne vai a mettere un altro. Invece cerca di gestire bene queste stanze e di rendere, appunto, l'ambiente molto interessante. Allora, questo suono. Come è sempre processato con un leggero OTT. E poi ovviamente ho messo questo preset di Ableton, Abience Medium, che appunto mi serve per creare un ambiente non troppo grande, infatti a 1.22 secondi. Ovviamente anche il dry wet è molto importante, quindi non metterlo direttamente così, ma leggero, leggero. Che poi io di solito quando vado a creare questi strati con gli altri suoni, io mi gestisco il primo suono un po' asciutto, non troppo, quindi una stanza non troppo ampia. E poi con gli altri suoni che vado ad aggiungere vado a mettere magari dei suoni con più ambiente. Quindi da avere il primo bello asciutto e centrale, invece l'altro lo sento un po' più lontano, tutti gli altri lo sento un po' più lontano. Quindi vado a creare anche questa dimensione con i suoni, senza tenerli tutti magari su un unico piano. Allontanare quello, avvicinare quello, è una cosa molto importante. Il primo che lo lascio ovviamente con, quessi è appunto il primo, il lead, quello centrale, lo lascio con un riverbero non troppo esagerato. Invece questo qua, ad esempio, gli metto più il riverbero. Infatti qua vedete che ho aumentato il decay time. Tutte e due, sentiamoli. Senza ovviamente qua il riverbero. Quindi vedete che tutte e due suonano sullo stesso, diciamo, piano. Mettendo il riverbero nel secondo, nel secondo layer, vado ad allontanare l'altro suono. A parte poi regolare anche per bene il volume, molto importante. E stare attenti se nel, ad esempio, abbiamo utilizzato un preset del silent, in questo caso di questo plugin Z3TA, devo stare attento se già qua sugli effetti, oppure sul silent sempre negli effetti, se abbiamo appunto messo il riverbero, il delay. Io preferisco togliere il riverbero o il delay dal plugin e metterlo io. Quindi metterlo magari dopo l'OTT, perché appunto, come vi dicevo prima, negli altri video, mi va a creare più confusione se metto poi l'OTT dopo gli effetti. Anche perché utilizzo un riverbero diverso. Quindi in questo caso ho utilizzato quello di Ableton. Ma io nella maggior parte dei casi utilizzo quello, appunto, il Palalarum. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Utilizzo quasi sempre questo qua. E me lo vado a impostare. Quindi tolgo quello che c'è già presente nel plugin. Qua invece ho utilizzato appunto il silent. E vedete che non è attivo il riverbero nel delay. Quindi come vi spiegavo anche sempre negli altri episodi, il routing, quindi il posizionamento degli effetti, che può essere un equalizzatore, un conversore, un riverbero in questo caso. Quindi il prima e il dopo di ogni effetto fa la differenza. Se io metto il riverbero prima, il delay, metto l'equalizzazione prima, tutto questo cambia. Non è che appunto metto così come capita, ma seguo un senso. Qua faccio la compressione. L'OTT in questo caso mi va ad alzare tutto quanto. Se io metto l'OTT dopo il riverbero mi fa questa confusione qua. Se invece lo metto qua, il riverbero lo sento così com'è. Quindi se non viene amplificato più di tanto. In questo caso se io ho messo il 19% di dry wet, con l'OTT mi amplifica di più. Che potrebbe essere anche una compressione. Quindi il riverbero io lo metto quasi sempre verso la fine. Così non verrà amplificato da un saturatore, da un compressore e così via. Poi ovviamente l'equalizzazione è importante pure. Perché se io metto un riverbero lasciando anche una stanza bassa, come in questo caso. Cioè ascoltare in solo così riuscirete a capire bene. Sarà diverso perché appunto ho messo un equalizzatore. Quindi vado a tagliare la stanza che ho creato nella parte bassa. Quindi questo mi va a fare la differenza. Come di solito e quasi sempre le frequenze basse le vado a tagliare. Possiamo, vedete, qua fare eye cut. Quindi possiamo tagliare le frequenze alte. Per decidere questo qui lo voglio abbastanza chiaro questo riverbero. Invece qua lo voglio un po' più scuro. Con delle frequenze chiuse, quindi magari andate a tagliare le frequenze alte, ci crea un riverbero più lontano. Quindi vado ad allontanare il suono. Sempre che viene da un'altra stanza così. Il delay, molto importante pure, che non so, ho un suono abbastanza corto. Con il delay mi va a riempire gli spazi vuoti. Ad esempio in questo caso, in questa melodia, vedete che ci sono questi spazi qua. Io mi vado a riempirli col delay. E poi mi piace molto perché allunga di più il suono e poi crea anche un bel abbiente. Così sembra di sentirlo più da vicino. Invece col delay lo sento un pochettino più lontano. Così sembra di avere un'unica cosa. Io di solito uso il ping pong, quello che troviamo sempre su Ableton. Con un tempo di ritardo a 3, così ce l'ho bello saltellante. E poi ovviamente qua vedete che c'è sempre il taglio delle frequenze. Quale sarà il range di questo delay? Eccolo qua. Io scelgo sulle medie. Posso farlo anche sulle alte. Vedete che lo sento più sulla parola, mi crea molta confusione. Invece così crea una cosa un po' più particolare. Conoscete bene come si usa un delay? Come si usa un riverbero? Di quello che andiamo ad utilizzare. Io una volta prendevo il compressore, lo mettevo, bello, mi dà un suono diverso. Invece quello sul compressore non funzionava proprio perché il rapporto di compressione era a 1 a 1. Quindi ogni riverbero lo prendevo, lo lasciavo così com'era, oppure utilizzavo dei preset così velocemente. Invece poi devo capire cosa faccio. Una volta che conoscete poi l'utilizzo di ogni effetto, mi assicuro che tutto sarà diverso. Quando ho un suono che ha urgenza di qualcosa, io già so qual effetto utilizzare. So che il riverbero mi crea un ambiente del genere, so che regolando il decay posso ottenere quel tipo di effetto. Allora io automaticamente vado a prendere subito il riverbero, senza magari andare a provare così a caso. Utilizzo anche il delay della Fabi Filter. Questo mi piace tantissimo. Utilizzo come il riverbero il delay? Utilizzo appunto quello di Ableton. Poi utilizzo Fabi Filter per il delay. E poi utilizzo il Valala Room. Questo qui. Utilizzo questo. Vabbè poi ci sono altre cose, ad esempio su altri suoni magari utilizzo altri tipi di tipo, che ne so, il Vintage Verb per le voci o anche per i suoni per creare un ambiente particolare. Ricordatevi che appunto creare l'ambiente giusto non è facile. Non vi posso dire, allora per creare l'ambiente giusto dovete mettere il decay a 50, dovete mettere il dry wet a 20. No, l'ambiente giusto si crea con l'insieme dei suoni. So che quel tipo di suono ha bisogno di questo tipo di ambiente. O magari posso provare a mettere un riverbero in questo tipo, andando però a dosare per bene poi con gli altri effetti. Poi una cosa che vado a fare, soprattutto nel drop, è di andare a creare le automazioni. Ecco, andare ad animare l'ambiente. Vedete qua? Le automazioni. Che cavolo di voce mi è venuta. Vedete con l'automazione del mix? In questo caso appunto, come vi dicevo prima, ho utilizzato il Valala Room. Eccolo qua. Per non avere un ambiente fisso. Un ambiente che va a crescere. Qui pure. Quindi il suono viene, il suono si allontana. Il suono si allontana, il suono viene. Così magari si evite di fare anche conflitti. Perché ho qua, vedete che poi vado a disattivare il riverbero. Quindi non lo lascio continuare perché poi c'è questo qui di sotto. Faccio ascoltare quel riverbero che va a crescere. Poi si ferma e poi riparte questo. Sono piccoli dettagli che nel complesso fanno la differenza. Poi un'altra cosa molto comoda che faccio è, vado a mettere sul master, vado a utilizzare il plugin MS-Ed. Questo qui che è gratuito, mi permette di ascoltare singolarmente il side oppure solamente il mid. Io di solito utilizzo il side perché utilizzo quasi sempre i riverberi in stereo. E quindi ascolto tutto quello che c'è all'esterno, nell'estremità appunto del side. Ascoltiamo. Questo è tutto quello che si crea. A parte la stereofonia, magari delle voci che ho utilizzato per la Super Show oppure anche per il lead. Ma ascoltiamo anche l'ambiente. Se ovviamente esagero troppo nella voce, soprattutto la cosa molto importante è anche il volume. Magari se metto una cosa minima, che si sente a malapena, posso mettere anche così al massimo il decay. Ma l'importante è che il volume sia regolato per bene di quell'abbiente che ho messo. Così si sente o non si sente. Ma se invece lo metto così... Magari nel drop, ascoltiamo. Vedete il riverbero che ho utilizzato con le automazioni? Non c'è poi così tanta confusione. Magari come facevo una volta... Ecco. Un disastro. Ovviamente senza i riverberi, senza appunto un ambiente, questi suoni suonerebbero molto freddi, suonerebbero appunto molto asciutti. Poi di solito potete utilizzare anche le mandate, quindi utilizzare magari un singolo riverbero e utilizzarlo sugli altri suoni. Di solito utilizzare lo stesso riverbero per tutti gli altri suoni, quindi creando una singola stanza, il cervello diciamo va a incollare di più i suoni. Perché è come appunto se sentiamo tutto in un'unica stanza e non sentiamo tante stanze differenti, sentendo magari suoni che vengono da un'altra parte. Invece se utilizziamo una singola stanza, li sentiremo più incollati tra di loro, che il riverbero serve anche per incollare i suoni. Però a me piace creare questa differenza e quindi creare ambienti diversi. E niente ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati al punto di dire che il riverbero è essenziale secondo me. Come al solito in ogni episodio le cose da dire sono tantissime, ma spero di avervi detto le cose più importanti. Come al solito qui sotto fammi sapere la tua e lascia un like se questo video ti è piaciuto, condividilo con chi vuoi, iscriviti anche al canale per restare sempre comunque aggiornato. Alla prossima, ciao!